Un Natale diverso da tutti gli altri, non meno autentico, all'insegna del rigore per contrastare la pandemia. Con queste parole il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenta in conferenza stampa Palazzo Chigi le nuove misure anti-Covid che saranno in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio. Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse. È un sistema che sta funzionando, che si sta rivelando efficace. In particolare questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Insomma, le misure che adottiamo sono adeguate e proporzionate a livello di rischio effettivo dei territori, senza inutili penalizzazioni. Nel giro di appena un mese abbiamo piegato la curva dei contagi, riportando l'RT sotto l'1. Attualmente l'RT corrisponde a 0,91. Insomma, stiamo evitando un lockdown generalizzato, come quello di primavera, che sarebbe stato molto penalizzante per tutto il Paese, sia in termini economici che sociali. Tra le misure del nuovo DPCM è il divieto di spostarsi tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, ristoranti aperti il 25, 26 e il 1 gennaio, ma solo a pranzo. In questi giorni non si potrà sconfinare dal proprio comune. Copri fuoco per Capodanno dalle 22 alle 7 del mattino, riapertura degli impianti di sci dal 7 gennaio, chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, stop alle crociere fino al 6 gennaio e quarantena per chi torna dall'estero e per i turisti che arrivano in Italia. Dal 7 gennaio poi, didattica in presenza al 75% per gli studenti delle scuole superiori. Qui dobbiamo intenderci, in un sistema libero al democratico, noi non possiamo entrare nelle case delle persone e imporre delle stringenti limitazioni. È per questo che possiamo limitarci e introdurre una forte raccomandazione. Ma chiediamo veramente a tutti, cerchiamo tutti di rispettarla. Raccomandiamo fortemente di non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni, che sono quelle di maggiore convivialità, dove i festeggiamenti diventano più intensi. È una cautela essenziale, non solo per noi stessi, ma per proteggere i nostri cari, specie i genitori, i nonni più anziani. La strada per uscire dalla pandemia è infatti ancora lunga. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata, che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda. Tensioni con le regioni, che esprimono rammarico per il metodo con cui è stato approvato il decreto.